benvenuti e benvenute ah ok scusami no è che stavo già leggendo live quindi ok allora benvenute benvenuti a questa diretta del coordinamento africa centrale di amnesty italia e questa sarà una diretta dedicata all'ethiopia ma possiamo posso già anteciparvi che l'intento del coordinamento africa centrale quello di dare col tempo pian piano spazio a tutti i paesi di competenza del coordinamento per chi non conoscesse amnesty international è un'associazione che da ormai sessant'anni perché quest'anno ci sarà proprio alla fine di questo mese il sessantesimo anniversario appunto della fondazione di amnesty appunto è un ente un'organizzazione non governativa che si occupa di difendere i diritti umani dalle loro violazioni perché abbiamo deciso di come coordinamento di occuparci di etiopia innanzitutto perché io sono coordinatrice dell'etiopia per il coordinamento appunto e quindi mi occupo di studiare le violazioni dei diritti umani presenti all'interno di questo paese e eh perché ho da oramai diversi mesi perché parliamo appunto eh di novembre duemilaventi da quando il tutto è iniziato è in atto un conflitto molto molto serio tra etiopia e tigrai che ha causato soprattutto una fortissima manutrizione in particolare sui sui bambini e questo però ehm è difficile trovarlo sui media classici eh è molto molto difficile e e quindi anche per questo che abbiamo deciso di organizzare come coordinamento questo tipo di di dirette e fatta questa premessa vado a salutare eh gli ospiti di questa diretta eh voglio incominciare da da Davide Thomasin e perché abbiamo voluto parlare con Davide perché Davide è un grande esperto in grande attività appunto per l'Etiopia e soprattutto scrive per eh Focus on Africa che è appunto in una delle pochissime riviste che è eh che si occupa di questa di questo tipo di di problematiche di analisi e quindi saluto Davide e voglio chiedere a lui eh un approfondimento appunto su questo particolare conflitto che insomma sta friggendo l'Etiopia come dicevamo già poc'anzi da oramai novembre duemilaventi ciao Davide grazie innanzitutto per aver accettato il nostro invito. Ciao Federica ciao a tutti eh faccio solo una piccola premessa io non sono un giornalista anche se collaboro appunto come hai detto tu con Focus on Africa ma sono un blogger e per necessità in questi mesi qua sono diventato attivista mi sento mi chiamano attivista eh perché perché ho diversi negli anni passati appunto ho avuto eh contatti col Tigrai per viaggi miei personali e e appunto e in questi viaggi ho sono riuscito a a creare delle amicizie e in questi ultimi mesi eh mi sono sentito appunto preso in causa nel eh appunto nel nel cercare di dar voce a chi non ha voce in questa in in questi ultimi mesi appunto di conflitto in Tigrai eh si è configurata una situazione altamente grave a livello umanitario e sta continuando purtroppo perché da un conflitto anzi da un'azione di una di da un'azione veloce che voleva fare il premier a di eh di polizia per destituire il ptlf il il eh un partito politico che eh era amministratore del Tigrai e in pratica appunto da una veloce azione di polizia che voleva fare il premier a B si è tramutata in una guerra eh che ad oggi non vede non vede fine perché appunto eh le variabili in gioco sono sono tante eh sì volevo fare un appunto eh sotto il punto di vista effettivamente umanitario adesso questa guerra già dal primo mese eh aveva prodotto eh migliaia decine di migliaia di rifugiati tigrini in Sudan eh che hanno sconfinato appunto in Sudan per cercare salvezza eh ad oggi se ne contano più di sessantadue sessantatremila i Grini in Sudan eh ci sono da report Appunto Amnesty e di altre realtà internazionali riportano che ci sono 4 milioni e mezzo di sfollati in Tigrai, sfollati da parte dell'esercito governativo etiope con l'alleanza delle truppe Eritrea. Ricordo che non più tardi di qualche mese fa la comunità internazionale ha iniziato in maniera abbastanza, mi verrebbe da dire abbastanza soft, tranquilla, a recriminare le brutalità che sono nate da questa guerra. E diciamo che oltre agli sfollati, ai rifugiati in Sudan, come Amnesty in primis ha dichiarato tramite i suoi report, ci sono decine, ci sono stati e continuano le violenze, ma ci sono stati decine di massacri sul popolo tigrino, ci sono state uccisioni di civili tigrini da parte delle truppe etiopi e d'Aritrea. Questa cosa va sottolineata che se non ci fosse stata da parte della comunità internazionale una certa pressione, AB fino a un paio di mesi fa aveva negato sia l'alleanza e le truppe Eritrea nel territorio del Tigrai. E appunto diciamo che la guerra dà appunto guerra per appunto bloccare i membri del TPLF, si è configurata in una guerra etnica perché non più tardi, diciamo che già dall'inizio si erano viste delle mosse da parte del governo etiope per reprimere il popolo tigrino perché diciamo secondo il governo etiope il TPLF è talmente radicato sul territorio che non arriva come dichiarato da parole testuali del premio arabi a fine marzo non arrivano a scindere quello che è il nemico da combattere con i civili tigrini perché appunto diciamo che il governo etiope ormai sospetta di tutti i tigrini, visto che... Diciamo che questa... Mi sentite? Sì, sì, vai tranquillo. Ok, scusate. Diciamo che già fin dall'inizio della guerra report e notizie che sono riuscite ad uscire dall'Etiopia dicevano appunto che era una guerra prettamente etnica perché sono state attaccate aree civili, hanno attaccato chiese e aree di culto e tutto questo sotto un blackout totale grazie appunto alla guerra che ha fatto in maniera tale di scindere dal mondo tutto il Tigrai, ovvero non avevano né corrente elettrica né linee telefoniche attive e quindi il Tigrai era sconnesso dal mondo e diciamo quella guerra è rimasta tra virgolette silenziosa fino a un paio di mesi fa, la metto così per far capire un po' a grandi linee perché ci sarebbe poi da sottigliare e andare in profondità, ma prenderebbe da parlare di caso per caso, però diciamo che appena negli ultimi mesi si sta cominciando a parlare seriamente di quello che è accaduto e sta accadendo in Tigrai. Ho parlato di guerra etnica perché appunto dai primi mesi si è visto che i tigrini sono stati repressi, tanti tigrini sono stati licenziati dai posti di lavoro, da Addis Abeba alle zone del Tigrai stesso, perché? Perché il governo aveva paura appunto come accennavo prima che in mezzo ai civili tigrini ci fossero membri del TPLF e quindi per salvaguardare quello che era ed è la sicurezza del paese tutto ha cercato di allontanarli dai posti di lavoro. Ho avuto notizie personalmente da contatti in loco verso dicembre che mi hanno testimoniato che sono stati licenziati, gli è stato chiuso il conto corrente, questo per salvaguardare il fatto della sicurezza del paese Etiopia e appunto bloccando i ponti correnti non ci sarebbe stato il potenziale aiuto economico magari da parte dei civili tigrini verso il TPLF e questo era ed è il punto di vista diciamo attuale anche del governo etiope. Sono stati fermati soldati dell'esercito etiope, sono stati fermati e messi, destituiti dal loro compito. soldati che facevano parte dell'esercito governativo etiope solo perché tigrini è allontanati dal loro ruolo, dal loro servizio. ad oggi si parla di 17.000 soldati appunto etiopi di etnia tigrina che sono stati allontanati, ripeto, dal loro ruolo per leader dell'esercito endif, dell'esercito militare etiope, qualche giorno fa avevano detto che li avevano allontanati per la loro sicurezza, per non subire repressioni da parte di qualcuno. il fatto è che mettendo in fila tutti questi dettagli, ovvero appunto l'allontanamento dal posto di lavoro di tigrini e l'allontanamento di personale militare di etnia tigrina dal loro posto di lavoro eccetera tutte queste cause messe insieme fanno denotare una guerra che non è una guerra verso appunto il TPLF è un partito che AB ha condannato come sovversivo e quindi appunto deve istituire e dare il suo ruolo ma appunto non si sta preconfigurando, è purtroppo diventata una guerra etnica e questo per chiudere un po' e poi magari mi aspetto vostre domande per capire meglio e questo fa in maniera tale che con l'ultima notizia del primo maggio che ha visto emanare da parte del consiglio dei ministri del governo etiope la dichiarazione che TPLF è preso come alla stregua di un'organizzazione terroristica questo fa capire e denota il fatto che se già i civili tigrini erano presi di mira con questa dichiarazione purtroppo la situazione si aggrava di molto non solo per diciamo il TPLF come partito quanto proprio per le persone che stanno subendo repressioni, violenze e questo non solo da parte dell'esercito governativo etiope ma purtroppo ha preso il sopravvento fin dai primi, dalle prime settimane anche diciamo le truppe Eritre stanno facendo da padrone sul territorio, occupando il territorio tigrino purtroppo perché l'esercito etiope sembra da notizie che abbia preso forza, abbia scusato, abbia perso forza nel gestire la situazione e sembra che le truppe Eritre ormai abbiano preso il sopravvento anche nella gestione e nell'occupazione del territorio del TRI, quindi hanno piede libero per confermato appunto da molti report hanno piede libero nel far subire violenza come stupri, violenze di genere verso le donne, le ragazze tigrine, per Eritre, insomma è una situazione a livello umanitario, a livello di diciamo problematiche grave. Io mi fermerei qua perché potrei andare a ruota libera però non vorrei far confusione nel dare informazioni così alla ruota libera, spero che magari ci siano, magari quelli che parleranno dopo di me spero che possano si approfondire e magari mi aspetto qualche domanda specifica per chiarire eventuali cose che su cui non sono stato molto chiaro ecco tutto qua. Benissimo, grazie Davide e adesso lasciamo la parola a tre ragazzi che mi viene da dire solo un po' la, ahimè purtroppo, la dimostrazione pratica di quello che diceva Davide e poco fa ed è fondamentalmente questo il motivo per cui abbiamo voluto parlare con loro. Voi non li vedrete in video va specificato questo e non vedrete i loro nomi reali. Questo perché appunto è diventato oramai impossibile anche poter esprimere liberamente la propria opinione e già questa è una grandissima violazione dei diritti umani e forse mi viene da dire anche la punta dell'iceberg di quello che come scrive Davide nei suoi articoli è l'inizio di fatto di un genocidio, di una guerra etnica. Quindi io lascio parlare i ragazzi, chi vuole intervenire per primo tra di voi, lo faccia pure, insomma tornatevi tranquillamente tra di voi e noi ascoltiamo le vostre testimonianze. Va bene, grazie mille innanzitutto a Federica e anche a Davide. Per noi appunto è importantissimo che si faccia più luce possibile su quello che sta succedendo alle nostre famiglie purtroppo. Come hai detto anche te Federica, scusateci per l'anno mimato, però purtroppo i nostri stessi parenti sono in ostaggio al momento in Tigray. Alcuni di noi hanno addirittura anche subito minacce dall'ambasciata etiope sul territorio italiano, il che è inaccettabile. Noi parliamo anche da cittadini italiani di origine tigrina, quindi sarebbe anche il caso che il nostro stesso governo si adoperi nel cercare di salvaguardare la nostra posizione. Quello che possiamo fare noi oggi è senza dubbio cercare un po' di fare chiarezza sul conflitto anche a livello di contesto di cosa c'è stato in precedenza e che ha portato al genocidio che ormai va avanti da sette mesi. Diciamo che le fazioni in questo conflitto ci sono più gruppi che fanno parte di questo conflitto. Da una parte ci sono le TDF che sarebbero le forze di difesa tigrina che stanno facendo una guerra di difesa e dall'altra parte invece c'è una coalizzazione di soldati di vario genere, tra cui le truppe federali etiopi come ha anche detto Davide prima, le truppe E-3, le milizie dello stato confinante con il Tigrai che sarebbe appunto lo stato regionale della Mara e inizialmente in un primo momento anche dei soldati somali e addirittura dei droni degli Emirati Arabi Uniti. L'inizio del conflitto. Questo conflitto, Abiy vuol far credere, Abiy è ovviamente il primo ministro etiope e appunto vuol far credere che all'inizio del conflitto sia stata la presa del Northern Command da parte delle forze di difesa tigrine il 4 novembre 2020. Northern Command è appunto una base militare, l'Etiopia ovviamente più di una base militare, però Northern Command è quello che sta a nord, stanziato nella regione del Tigrai. Tuttavia, anche se Abiy dice ciò, le ostilità partono già addirittura dal 2018 ovvero appunto quando Abiy Ahmed è diventato il primo ministro d'Etiopia ricordo non tramite un'elezione ma tramite una lotta politica all'interno del partito egemone di allora che si chiamava appunto IPDRF, era un partito nazionale che però era composto da diversi partiti regionali tra cui il partito che rappresentava sia il Tigrai che l'Amare e l'Oromo. Tra l'altro appunto Abiy, stesso presidente attuale, ha fatto parte di quel partito per più di vent'anni quindi non è assolutamente una figura nuova della politica etiope, anzi è presente sin dall'inizio diciamo. Fin da subito, quando Abiy diventa primo ministro d'Etiopia, instaura comunque un rapporto, io direi, ambiguo con il dittatore eritreo Isaiah Saporchi. Per chi non avesse, come dire, familiarità con la situazione geografica, l'Eritrea appunto a nord del Tigrai confina con il Tigrai e appunto Abiy e Isaiah instaurano una pace fittizia perché tra l'altro non è neanche stata stipulata in maniera scritta ufficiale però appunto questa pace non porta frutti perché di fatto i confini rimangono aperti per poche settimane. Isaiah continua il suo regime oppressivo in Eritrea, continua ad imporre la sua oramai storica leva militare indefinita per gli stessi cittadini eritrei, anche tra virgolette in periodo di pace perché pace non era soltanto diciamo stipulata in un contratto che nessuno ha mai visto e tuttavia comunque questa pace fittizia fa ottenere ad Abiy il premio Nobel per la pace inizialmente. Subito dopo, negli anni successivi, sia Abiy che Isaiah continuano a svolgere comunque delle molteplici visite nelle basi militari di ambedue i paesi e nel frattempo appunto Abiy, oltre a visitare le basi militari Eritrea impone anche un embargo economico e dei trasporti nei confronti del Tigrai e allo stesso momento inizia a demonizzare sia i cittadini tigrini in generale che anche la leadership politica del Tigraino, dicendo appunto che tutti i mali erano attribuiti a loro quando lui stesso comunque ha fatto parte del partito precedente per più di vent'anni. Nel 2019 Abiy dissolve il partito egemone della quale abbiamo parlato prima e crea un nuovo partito che si chiama Prosperity Party ed è l'attuale partito al potere in Etiopia alla quale si aggiungono tutti i politici dell'ex partito che rimangono comunque fedeli ad Abiy. Il Tigrai, la leadership del Tigrai, non accetta ovviamente le modalità dato che, come ho detto prima, Abiy non è mai stato eletto tramite un voto popolare e comunque vedendosi comunque demonizzato continuamente si rifiuta semplicemente politicamente di aggiungersi al nuovo Prosperity Party e decide di aspettare le elezioni. Appunto la parte cruciale è questa, nel senso che nel 2020, nell'estate del 2020 in Etiopia dovevano esserci appunto delle elezioni come previsto dalla Costituzione Etiope. In concomitanza con le elezioni nazionali dovevano anche esserci, come dice la Costituzione Etiope, le elezioni regionali. Abiy, con la scusa del Covid, ricordo in Etiopia c'erano pochissimi casi di Covid, posticipa le elezioni in maniera completamente indefinita al che il Tigray risponde dicendo che comunque vuole continuare a procedere con le elezioni regionali come è previsto dalla Costituzione in modo da, semplicemente da poter nominare i propri rappresentanti regionali, una cosa normale in tutti i paesi del mondo, credo. Abiy continua a dire che queste elezioni erano per l'indipendenza, diciamo, ma non era assolutamente il caso, anche perché lo stesso TPLF era contro l'indipendenza. Subito dopo, appunto quando il Tigray proclama di voler continuare ad andare avanti con queste elezioni regionali, lo stesso Abiy in diretta nazionale, parliamo proprio in diretta nazionale, possiamo anche fornirvi tutti i documenti che preferite, minaccia il Tigray dicendo in diretta nazionale che se avverranno le elezioni, molte madri tigrine piangeranno le morti dei loro figli, il che non mi sembra neanche un proclama detto da un fresco premio Nobel per la pace. Però comunque queste minacce non fermano il processo democratico tigrino e vengono svolte queste elezioni e ovviamente vince il TPLF in maniera schiacciante. Dopo poche settimane, qua si parte proprio con la guerra, Abiy inizia a spostare tutte le truppe federali stanziate nel resto del paese e le posiziona nel confine sud del Tigray. Ovviamente questo crea anche dei vuoti di potere perché vengono generati tanti massacri in giro per il paese perché mancano i militari diciamo e tanti conflitti si inaspriscono. In concomitanza appunto Isaias, quindi il dittatore ritreo, ammassa i suoi soldati sul confine a nord del Tigray al che il governo regionale tigrino risponde con la presa preventiva della base militare all'interno della regione proprio per evitare che oltre ad essere attaccati dall'esterno siano attaccati anche dall'interno. Questo è il fatto che non sia stata una guerra partita in un giorno non è appunto detto da noi, non è anche detto da la maggior parte delle testate mondiali ma addirittura anche dagli stessi generali di Abiy che hanno appunto detto tanti lapsus anche in televisione nazionale hanno confermato che appunto si erano preparati per questa guerra da mesi oramai e poi anche logicamente parlando mobilitare centinaia di migliaia di soldati non è qualcosa che può essere fatto in meno di 24 ore. Quindi le truppe federali etiopi, eritree, le milizie dello stato regionale Amara hanno compiuto tuttora in questi sette mesi decine di migliaia di stupri stanno compiendo una sostituzione etnica e territoriale nel Tigray dell'Ovest come diceva anche Davide prima il che è appunto confermato non solo da tante organizzazioni internazionali ma anche da 63 mila rifugiati tigrini in Sudan inoltre bruciano i campi di coltivamento per indurre la regione alla fame saccheggiano anche ospedali bombardano le chiese, moschee, industrie e il tutto ovviamente nel silenzio dato che Abiy ha tagliato ogni tipo di collegamento con l'esterno incluse le linee telefoniche e appunto il PM Etiope si ostina a dire che non è una guerra contro il Tigray ma invece solo contro il TPLF il che è considerato l'ammontare delle morti non solo bugie è proprio pura demagogia qualcosa di indifendibile tuttora il 90% della regione è comunque inaccessibile noi dopo sette, sei mesi non sappiamo neanche se le nostre famiglie sono vive o meno ovviamente tutto ciò è intenzionale perché l'intenzione di Abiy è quella di poter dettare la narrativa del conflitto cosa che tra l'altro non gli sta neanche riuscendo dato che sia l'Unione Europea che il segretario generale americano Blinken hanno comunque confermato che in Tigray sta avvenendo la pulizia etnica purtroppo per mesi come diceva Davide ha negato la presenza eritrea nel territorio etiope per poi sbugiardarsi da solo in diretta nazionale come ha fatto più volte e in più appunto anche inizialmente attribuito dei massacri alle forze di difesa tigrina come nel caso di Maikadra dove gli stessi rifugiati in Sudan lo hanno smentito o ha cercato addirittura di nascondere altri massacri come quello ancora riportato da Amnesty di Aksum mentre dall'altra parte ci sono i tigrini che hanno delle semplici richieste sarebbero appunto l'uscita delle truppe eritre dall'Etiopia che mi sembra un qualcosa di legittimo l'accesso umanitario a cibo e a medicine per i civili tigrini l'accesso per le organizzazioni internazionali per investigare chi ha commesso i crimini cosa importantissima se qualcuno avesse qualcosa di nascondere non chiederebbe l'intervento internazionale per poter monitorare e stabilire chi ha compiuto determinati massacri e ovviamente anche la richiesta di un armistizio non solo Abbi e Isaias non si rifiutano di dialogare ma come ha anche detto Davide recentemente hanno anche dichiarato che i partiti politici sia in Tigray che in Romo e in altre regioni d'Etiopia sono comunque organizzazioni terroristiche e che, perdonatemi però, quantomeno se non fosse una situazione così drastica farebbe ridere è abbastanza bizzarro dato che comunque il partito, il TPLF ha governato l'Etiopia per anni ciò che ha portato all'Etiopia oltre a diminuire la mortalità infantile fare la crescita dell'economia questi sono fatti non è una questione politica noi non stiamo facendo un discorso politico è soltanto un confronto appunto tra il governo precedente ciò che è stato prima del governo precedente e ciò che c'è adesso quindi nel mezzo prima e dopo il governo precedente appunto ci sono stati due genocidi il che è qualcosa di incredibile in meno di 30 anni di storia per finire appunto il 5 di giugno di quest'anno quindi neanche un mese dovrebbero svolgersi le elezioni nazionali in Etiopia le stesse elezioni che sono state più volte posticipate però appunto anche addirittura l'Unione Europea ha recentemente dichiarato che pur avendo finanziato la commissione elettorale etiope se non sbaglio con più di 20 milioni di euro la stessa Unione Europea appunto non ha avuto la possibilità di monitorare le elezioni perché ci sono state tante appunto ostruzioni del governo di Abi di fatto considerando queste elezioni poco attendibili diciamo e a queste elezioni ovviamente non potrà partecipare nel Tigrai proprio interamente come regione né tutti gli oppositori politici di Abi perché è giusto menzionare appunto che questo non è solo un problema tigrino non è soltanto il Tigrai ci sono tante regioni d'Etiopia che purtroppo stanno subendo di tutto e di più con eccezione forse dell'establishment della regione Amara che sta comunque appoggiando il PM Etiope nel continuare appunto il suo genocidio soprattutto anche per rivendicare diciamo dei territori tigrini l'Etiopia purtroppo di fatto noi stessi tigrini ci siamo sempre sentiti etiopi non abbiamo mai detto di essere tigrini per noi l'Etiopia era tutto quindi noi ci siamo svegliati in una situazione che non credevamo mai potesse accadere e di fatto l'Etiopia sta implodendo l'unico appoggio della quale Abi gode è appunto quello delle truppe Eritree che ormai combattono in più fronti non solo in Tigrai ma anche in Oromo in Benishangul in Sudan addirittura cioè praticamente i militari di Abi oltre ad essere i militari federali sono anche gli stessi militari di Isaias per continuare appunto questa guerra folle Abi sta cercando di svendere tutte le risorse strategiche e addirittura anche pezzi dei settori pubblici etiopi all'estero perché comunque ha bisogno di continuare a comprare armi e finanziare il suo genocidio proprio come ultima cosa scusatemi se mi sto dilungando noi abbiamo una semplice richiesta diciamo come cittadini italiani tigrini di origine tigrina abbiamo solo una piccola richiesta all'Italia appunto prima di tutto una presa di posizione contro il governo etiope che deve essere chiara e forte non frasi di circostanza semplicemente fare ciò che hanno fatto altri paesi quindi non più fermarsi al dire sì tutte le parti devono fermarsi perché ciò che sta succedendo è terribile certo lo capiamo ma in questo caso è molto chiaro c'è una fazione che sta trucidando ammazzando massacrando stuprando migliaia di persone è un'altra fazione che sta cercando di difendere i civili e questo si vede soltanto non è un discorso politico questo è per fare chiarezza e per spiegare come si può arrivare a una fine del conflitto senza fare chiarezza possiamo soltanto limitarci al dire che appunto ci dispiace per i civili che stanno morendo oltre a prendere una presa di posizione forte contro il governo di Abdi è anche importantissimo per noi un chiarimento e soprattutto anche il cancellamento di un accordo militare che lo Stato italiano ha stipulato con l'Etiopia questo è un accordo militare che noi ovviamente non sappiamo se sia stato implementato o no sta di fatto che è un accordo lo ricordo è stato stipulato il 17 di luglio 2020 numero 90 e può essere trovato nella gazzetta ufficiale e risulta come in vigore secondo la gazzetta ufficiale italiana quindi non sono parole nostre e questo è un accordo militare che è stato appunto stipulato l'ottobre stipulato il 17 luglio ma confermato l'ottobre del 2020 quindi il post elezioni regionali tigrine e che le tempistiche sono veramente imbarazzanti perché tutta Etiopia sapeva che la situazione era caldissima proprio perché Abia aveva già come ho detto prima minacciato i tigrini in televisione nazionale e oltre a questo accordo militare con l'Etiopia che ripeto non sappiamo se sia stato implementato o no lo stesso ministro della difesa Guerini poche settimane fa è andato in Somalia in Djibuti e ha ribadito che l'Italia continuerà a rafforzare le forze di difesa somale e gibutine il che è un grande problema perché sono grandissimi alleati di Abia e quindi noi vogliamo anche evitare triangolizzazioni militari purtroppo lo stesso governo somalo ha già mandato truppe in Tigrai quindi se mandano soldati possiamo anche immaginare che possono mandare armi noi ovviamente speriamo che questi accordi non siano stati implementati ciò che è di sicuro quello che vogliamo appunto che che vengano perlomeno cancellati anche se siano soltanto meramente degli accordi sulla carta e con questo vi ringrazio scusate se mi sono dilungato però appunto per noi la cosa più importante è creare sempre chiarezza perché senza chiarezza questo conflitto non continuerà mai il Tigrai come l'Etiopia era una regione pacifica e stabile e lo è stata per 27 anni con l'avvento di questo primo ministro e con il suo patto militare che poi gli ha portato il Nobel ma comunque rimane un patto militare con l'Eritrea non solo l'Etiopia sta implodendo ma tutto il corno d'Africa sta implodendo e purtroppo parlo anche da italiano questa cosa se non viene risolta velocemente porterà anche tantissimi tantissimi rifugiati tantissime persone che stanno male e anche problemi alla stessa Italia grazie per avermi sentito grazie a te io andrei avanti con gli altri ragazzi nel frattempo ricordo che la Banca Mondiale ha dato l'onoreficenza dei 30 anni di governo della coalizione capitanata dal TPLF per aver fatto crescere il paese durante il suo operato e stiamo parlando dell'unico paese africano che ha ricevuto questo merito quindi insomma possiamo notare insomma tutte tutte le diciamo innumerevoli contraddizioni che emergono e io andrei avanti con gli altri interventi sì ciao 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 piacere anch'io purtroppo non mi posso palesare per le questioni che dicevamo prima purtroppo per noi è veramente una cosa molto triste faccio veramente un focus rapido su quello che è stato detto prima in merito alle nostre richieste fatte ovviamente con garbo all'Italia e soprattutto in tema legato a questo accordo militare che però è anche diciamo un esempio di come la figura di Abiy Ahmed goda o abbia goduto fino a poco tempo fa di un credito incredibile rispetto a quello che in realtà diciamo ha fatto e ha messo in piedi chiaramente cerco di non avere un'opinione politica ma di parlare di fatti questo accordo militare nasce con il viaggio dell'ex ministro della difesa Elisabetta Trenta il capo di stato maggiore Veciarelli che fu fatto appunto in Etiopia in corno d'Africa in realtà nell'aprile del 2019 e fu diciamo presentato a livello generale come un accordo in cui sarebbero state sviluppate operazioni di peacekeeping di lotta al terrorismo contrasto all'estremismo violento questo accordo fu poi presentato ovviamente nel giugno dello stesso anno al consiglio dei ministri c'era il conte uno all'epoca e diciamo che fece chiaramente tutto il suo iter parlamentare e fu diciamo diventò legge il 5 agosto del 2020 perché fu pubblicato in gazzetta ufficiale se non sbaglio il 4 agosto quindi dal 5 agosto divenne legge chiaramente il 4 agosto del 2020 esattamente quattro mesi prima dell'inizio di questo incubo di questa guerra incredibile quindi è chiaro che lato nostro anche il tempismo insomma ci fa un pochino pensare nel senso che è chiaramente legato un po' alla fotografia che veniva fatta appunto sempre da il ministro Trenta e diciamo la sua missione nel corno d'Africa del paese infatti ci fu questa a mio modo di vedere incredibile scheda che diciamo presentava appunto questo accordo che veniva proposto al paese Italia in cui c'erano delle frasi che non solo col senno di poi sono incredibili ma anche con quello di allora perché parlavano di un premier che aveva inaugurato una fase politica di riforma e riconciliazione nazionale di un premio Nobel ovviamente che diffugato nel 2019 per una pace che poi abbiamo visto insomma quale 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 fosse il fine di questa pace parlavano di apertura democratica di riformismo economico della pace appunto con l'Eritrea della distensione insomma sembrava che l'Ettopia fosse praticamente la Svizzera quello che però era realtà e che era stato presentato diciamo questa fotografia del paese sostanzialmente io credo a questo punto per raggiungere un obiettivo uno scopo proporre un accordo militare che potesse essere accettabile dal Parlamento perché già nel 2020 la stessa Amnesty International in un documento un dossier annuale appunto legato all'Etiopia parlava dell'Etiopia in maniera totalmente diversa rispetto a quello che appunto diceva questo questo report che fu presentato alla Camera parlava di un paese in cui le forze di sicurezza non sono non sono riuscite diciamo a mantenere a non perpetrare le relazioni di diritti umani a un aumento della violenza scusate della violenza etnica che ha condotto migliaia di morti in tutto il paese dello stesso governo che non è riuscito a diciamo condurre inchieste serie di imparziali per 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 incarcerare gli attori di queste violenze insomma una fotografia completamente diversa da quello che è forviante che è stata presentata alla Camera quindi una serie di cose che portano appunto a un documento che dice cose non vere perché parla di un ministro che non è ovviamente che in realtà non è stato eletto parla di una crescita economica che come ha detto prima l'altro ragazzo imputa a un ministro non eletto che è in carica da un anno e mezzo quando la crescita economica è in doppia cifra all'Etiopia ce l'ha da vent'anni ormai a questa parte con una serie di di miglioramenti dal punto di vista non solo economico ma anche sociale quindi quello che noi stiamo chiedendo è appunto diciamo il congelamento la cancellazione di questo accordo ma perché anche solamente nel suo preambolo cita insomma delle indicazioni per cui non può stare in piedi perché in questo accordo c'è la conferma dell'impegno di entrambi i paesi nel rispettare la carta delle Nazioni Unite del rispetto del diritto internazionale insomma e quindi sono tutti temi che non stanno non sono rispettati in questo momento in Etioca e non sono rispettati in realtà dal governo di Abiy visto quello che sta succedendo quindi questo accordo a nostro modo di vedere non può essere portato avanti ma chiediamo che ci sia una presa di posizione una presa di posizione perché secondo uno dei vari articoli appunto di questo accordo diciamo le parti non possono portarlo avanti qualora non ci sia un rispetto delle leggi internazionali poi ricordo per concludere velocemente il mio intervento che in base alla legge 185 del 1990 quella la legge che insomma immagino conosciate bene regola la vendita e la compravendita di armi a parte dell'Italia nei confronti di altri paesi diciamo che per quello che sta succedendo in Etiopia per le violazioni dei diritti umani massacri gli stupri l'utilizzo della fame come arma da parte delle truppe eccetera eccetera sarebbe illegale sarebbe illegale secondo la legge 185 avere dei rapporti in termini di compravendita di armi sia con l'Etiopia che con i paesi limitrofi parliamo dei viaggi appunto di cui si stava parlando prima di Guerini secondo la legge 185 bisogna avere la certezza della destinazione finale delle armi quindi vendere armi a un paese limitrofo a un altro che ha una situazione interna di questo genere sarebbe anche in questo caso contro la legge 185 quindi non solo noi chiediamo che ci sia un chiarimento della posizione italiana a livello generale un chiarimento su questo tipo di accordo militare e sottolineiamo che sarebbe illegale portare avanti un accordo militare in questo momento con l'Etiopia grazie grazie a te io sto con Andrea avanti con con gli altri continuo io perché vedo vedo tutti tutti gli spettatori insomma curiosi di ascoltare le vostre testimonianze quindi certo ancora la parola a voi io in realtà voglio focalizzare un attimo appunto su questo aspetto che su aspetto umanitario e anche diciamo per fare chiarezza perché molti continuano a non riconoscere o comunque leggo molti articoli continuano a non utilizzare questa parola ovvero genocidio o polizia etnica quando è proprio quello che sta succedendo come nasce appunto il genocidio non è il primo genocidio nella storia e di solito nasce sempre con appunto la propaganda un odio razziale verbale che poi sfocia appunto nella vera e propria violenza che come appunto gli altri compagni giustamente dicevano in questi tre anni abbiamo visto la demonizzazione del tegrino dell'etnia tegrina oltre che ovviamente anche della leadership del governo del tegrin e diciamo che lo scoppiare della guerra la prima cosa che fece il premio Nobel fu quella di tagliare completamente gli accessi alla regione e bloccando non soltanto le strade quindi le vie aeree ma anche terrene ma proprio bloccando anche l'elettricità l'accesso all'acqua come anche Davide prima diceva molti tegrini in terra siete ritrovati senza soldi perché i conti correnti erano completamente congelati quindi e molti non se ne erano non se ne erano manco resi conto il giorno stesso se ne sono resi conto quando hanno iniziato a sentire le bombe quando hanno iniziato a sentire gli aerei infatti io sono anche in contatto con alcune persone che sono state lì e che sono tornate e mi dicevano tuttora molte persone hanno paura di sentire gli aerei il suono degli aerei li terrorizza perché sanno che vuol dire sanno cosa hanno visto poi non solo il numero anche dei morti adesso si stima le stime parlano di circa centocinquantamila persone uccise in diversi massacri in diverse città tra cui appunto Axum come ha riportato Amnesty in cui si stima circa ottocento persone ma ancora è impossibile esserne certi perché purtroppo come si è detto non lasciano l'accesso alla regione l'ottanta per cento della regione è ancora bloccata un dieci per cento accessibile e un altro dieci invece sì e no ci si arriva anzi per molti mesi è stata completamente adesso in quest'ultimo mese qualcuno è riuscito a entrare i giornalisti sono riusciti a entrare a riportare anche con i loro stessi occhi quello che hanno visto nonché anche la presenza massiccia degli eritrei che ormai sono diventati ingestibili a quanto pare ingestibili sono diventati padroni della regione entrano nelle case saccheggiano stuprano le donne davanti ai loro figli oppure uccidono semplicemente anche senza motivo senza motivo entrano nelle città per esempio quello che è successo ad Axum l'arrivo degli eritrei quello che ha portato un ingente numero di persone di civili uccisi randomicamente e il numero dei dispersi internamente è allucinante l'integraio ospita circa 6 milioni di persone 4.5 milioni di persone necessitano di aiuti basici come possono essere le medicine il cibo l'acqua che sono inventati risorse preziosissime e che non si possono ottenere con tanta facilità inoltre mentre dispersi internamente sono circa 2.7 milioni in certe città addirittura ci sono più rifugiati più persone provenienti da altre città che cittadini insomma del paesino soprattutto l'esodo è partito in particolar modo dalla zona ovest della regione del Tegrai perché la zona ovest ormai non solo è diventata inaccessibile ma adesso è sotto controllo del governo Amara gestisce il governo Amara perché sono terre che di fatto appartengono allo Stato ma che in passato sono state insomma terre contese e tuttora appunto per delle rivendicazioni il giorno due giorni dopo insomma pochi giorni dopo dallo scoppio dalla dichiarazione della guerra le milizie Amara sono entrati da sud mentre gli eritrei da nord bombardavano per esempio Umera e hanno compiuto moltissimi moltissimi massacri infatti molti la maggior parte dei 60.000 rifugiati in Sudan provengono proprio da queste regioni poi purtroppo le strade verso il sud sono state bloccate motivo per il quale adesso sono si contano sul milione le persone che invece sono scappate appunto da questa regione e molti purtroppo non ce l'hanno fatta altri purtroppo invece sono morti durante il percorso donne che purtroppo hanno dovuto dare alla luce i propri figli per strada senza alcun tipo di accesso sanitario gli ospedali gli ospedali saccheggiati perché poi il genocidio non è soltanto uccidere la persona è uccidere anche tutto quello che è l'impronta la cultura di quell'etnia infatti si parla di di bombardamenti in chiese e luoghi sia religiosi che culturali importantissimi per esempio la moschea la seconda moschea più antica dell'Africa bombardata si vedono le immagini in cui ci sta un enorme buco e molti manufatti sono stati saccheggiati alcuni addirittura si trovano si dice che si trovino anche sui bei purtroppo così come tantissime chiese la chiesa di De Bredamo violentemente bombardata le scuole le università ormai le scuole in realtà sono diventate dei rifugi insomma per bambini non accompagnati i minori non accompagnati si aggirano circa sui 5.000 allontanati dai propri familiari o che hanno perso i propri familiari per non parlare poi degli ospedali infatti adesso il maggiore uno dei più importanti insomma pericoli appunto lo scoppio anche delle epidemie perché insomma bambini soprattutto nell'età neonatale si sa i bambini devono fare i vaccini non ci sono i vaccini adeguati non ci sono farmaci importanti come l'insulina o farmaci di emergenza quindi non ci possono essere i primi soccorsi anche perché poi come ho detto molte zone sono proprio inaccessibili quindi e poi anche la questione appunto dei saccheggi non soltanto di oggetti insomma che possono essere oggetti manufatti provenienti dalle chiese ma anche dalle stesse case dei civili quindi dei rubati di tutto ciò che avevano ma anche importantissimo questo sottolinearlo del raccolto quello che potevano rubare hanno potuto rubare insomma l'hanno rubato l'hanno fatto ma molto del raccolto è stato anche bruciato volutamente in modo tale che la popolazione potesse morire di fame infatti qui e lo riporta l'economist lo riportano diverse testate giornalistiche internazionali quello che è stato fatto è usare anche sia lo stupro ma soprattutto anche la fame come arma da guerra e adesso poi si avvicina anche la stagione della pioggia e il contadino ha bisogno di poter piantare i semi ma ora con ora è impossibilitato sia perché quel che aveva è stato bruciato sia perché gli eritrei stessi soprattutto i soldati eritrei ma anche insomma federali anche milizia mare insomma impediscono loro di poter coltivare quindi poter svolgere le proprie manzioni la situazione è degradante molto degradante e sia adesso ma poi si pensa anche al futuro se mai un giorno questa guerra dovesse dovreste dovreste mai dovreste mai insomma finire sarà sarà difficilissimo riprendersi a livello economico a livello anche dell'agricoltura perché ormai è andata persa da adesso in poi inizieranno anni di carestia carestia che poteva essere evitata l'Itigraia in questi trent'anni aveva raggiunto diverse vittorie diversi premi anche a livello internazionale sia dalle Nazioni Unite per la politica di sviluppo che aveva attuato in questi anni sia per la coltivazione che la fertilizzazione delle terre adesso è una popolazione rimasta senza nulla e quindi sì è brutto i miei compagni appunto chiedevano una posizione una posizione netta del governo italiano io invece in realtà chiederei anche agli italiani perché spesso purtroppo queste notizie non si sentono se si diffondessero un po' di più magari si ricerda anche a sensibilizzare la popolazione internazionale e non soltanto il governo per far capire che cosa sta succedendo perché poi sembra la solita storia la solita Africa che insomma che va incontro a una delle tante guerre purtroppo un po' sì è vero è così però sicuramente diffondendo la voce almeno dal mio punto di vista si potrebbero forzare appunto anche le richieste di fare più pressione di intervenire dal punto di vista dal mondo internazionale quindi quindi appunto chiedo anche una maggiore sensibilizzazione da parte anche degli italiani e che non siano insomma queste storie non mandano ignorate grazie grazie Federica se posso volevo aggiungere una cosa riguardo a quello che è stato detto adesso ovvero riguardo al genocidio è uscita 24 ore fa è recente la notizia della dichiarazione del patriarca della chiesa ortodossa in Etiopia che ha denunciato tramite un video il genocidio in Tigrai questo volevo sottolinearlo perché perché da una voce così diciamo alta riuscire a denunciare e a dire a chiare a chiare lettere e a denunciare appunto il genocidio che si sta perpetuando in Tigrai non è cosa da poco e che sia inutile anche trovare a negare le evidenze questa era per dire che una testimonianza così spero che possa riuscire a smuovere qualche animo come dicevano i ragazzi prima non solo dal punto di vista di chi diciamo ha la sensibilità appunto d'animo di voler far qualcosa ma che possa muovere gli animi anche di tutte quelle che persone che oggi possono decidere sulla vita o sulla morte di altre e questo intendo persone che hanno a che fare con la politica e che masticano politica e che devono decidere per il bene comune questo si ripeto mi sentivo di sottolinearlo perché è importante e da non dimenticare scusatemi potrei aggiungere solo una parola velocissima su quello che ha detto Davide sempre in merito al Papa Ortodosso ti ringrazio per averlo ricordato Davide vorrei anche ricordare che purtroppo avrebbe voluto anche parlare molto prima sono quasi quasi all'inizio del genocidio appunto da sette mesi quasi sette mesi che ha gli arresti domiciliali e non ha la possibilità di parlare temiamo purtroppo che potrebbero esserci potrebbe esserci addirittura un assassino quindi è una problematica abbastanza grande è riuscito comunque a far trappelare il messaggio e speriamo nel suo meglio diciamo grazie infatti è arrivata adesso una domanda proprio a proposito di di questa notizia e è aperta un po' a tutti quindi chi vuole può rispondere e ci dicono il papà è in pericolo lui stesso proprio perché tigrino come possiamo agire in Italia? se posso intervenire certo allora riguardo la questione del patriarca della chiesa ortodossa infatti è una situazione molto complicata il messaggio del patriarca è arrivato è stato sono riuscita a far trappelare questo questo video perché come hanno già ripetuto altre persone in questo meeting c'è stato uno sforzo enorme nel tentare di censurare qualsiasi tipo di 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 statement da parte sua comunque non ha potuto esprimere la propria opinione riguardo situazione nel tegrai lui ha dichiarato che persone vicino a lui sono state anche arrestate queste sono dichiarazioni che sono arrivate ci tengo a precisare il messaggio del papa del patriarca etiope che è come dire l'equivalente del papa per la per la chiesa ortodossa etiope è un messaggio che è arrivato ed è stato da un telefono è stato registrato da un telefono di un suo caro amico che è il capo di una NGO che è basata in in America questa persona ha dovuto registrare di nascosto il patriarca il quale gli ha detto che state le persone intorno a lui sono a grave rischio rischio di vita e questo messaggio è stato solamente è stato poi rilasciato è stato mandato a diverse testate giornalistiche solamente una volta che questo questo messaggero era arrivato in America cioè è impossibile impossibile far trappelare un messaggio di condanna su questo genocidio o comunque è impossibile esprimere la propria opinione che un'opinione che va che contrasti quella che è la visione del regime di Abbey c'è una totale censura che è difficile da immaginare qua si parla Etiopia è comunque un paese di 110 milioni di abitanti io da questo punto vorrei un attimo riprendere quello che è stato detto prima e soffermarmi e sottolineare il fatto che la comunità internazionale ha fatto dei piccoli passi rispetto a quella che è la situazione verso il Tigray ma ovviamente tutto quello che è stato fatto fino adesso non è assolutamente abbastanza come stanno ripetendo comunque diverse persone stanno ripetendo tutte le agenzie umanitarie persone comunque anche a livello diplomatico un piccolo esempio e cito le parole del nuovo inviato speciale nominato dall'America per il Corno d'Africa è stato nominato di recente appunto riguardo la situazione disastrosa e catastrofica del Tigray e dell'Etiopia in generale lui è intervistato da Foreign Policy ha dichiarato che l'Etiopia la situazione in Etiopia che è con un continuo deterioramento in confronto alla Siria potrebbe potrebbe cioè l'Etiopia in confronto alla Siria potrebbe essere definita un gioco da bambini questi sono in noi la gravità e il disastro di cui stiamo parlando vi ripeto 4 milioni e mezzo di persone che rischiano di morire di fame 2 milioni e mezzo di sfollati interni i rifugiati in Sudan scusate la precisazione sono intorno ai 60 65 mila anche un po' di più ma quello che di quelli che sono stati registrati presso UNHCR perché moltissimi sono anche non sono registrati quindi si parla di un numero ancora più alto questi sono quello che i giornalisti che sono andati sul posto hanno dichiarato che tra fonti non ufficiali hanno detto che i numeri di rifugiati sono ancora più alti perché non tutti vengono registrati una cosa che a me preme molto preme molto parlare è una qualcosa di totalmente disumano è della sistematica campagna di stupri e di violenze sessuali che sta avvenendo nel Tegrai chiunque gli operatori umanitari incluso il capo della Croce Rossa internazionale Francesco Rocca hanno detto che in tutta la loro carriera non hanno mai assistito a una distruzione e una disperazione tale appunto se mettiamo a confronto il Tegrai con altre zone di guerra in Tegrai in questo momento si può definire verrebbe da dire che è uno Yemen e una Siria e un Rwanda messi insieme si parla di è stato definito tra l'altro anche il Rwanda della nostra epoca oltre a questo il capo un altro riferimento che è stato fatto è stato quello del inviato speciale dell'Unione Europea rispetto al Corno d'Africa che ha definito sempre su Foreign Policy intervistato il Tegrai è un campo di concentramento all'aria aperta stiamo parlando di è difficile cercare di trasmettere alle persone la gravità di questa crisi diverse cose sono state nominate ma ripeto io ci tengo a sottolineare appunto che la vastità della campagna sistematica di stupri di massa qua si parla di stupri e violenze sessuali che comprendono torture e mutilazioni che vengono perpetuate in tutta la regione senza esclusione tutta la regione e i target di queste violenze sono donne madri nonne e bambine piccoli fino a 8 bambini fino agli 8 anni lo stupro è stato ripetutamente identificato e nello stupro è stato riconosciuto l'intento genocida nel senso che questa è la violenza la brutalità che ovviamente superano ogni immaginazione questi stupri vengono perpetuati per eradicare l'etnia tigrina questo non lo diciamo noi lo dice il sottosegretario generale e capo dell'ufficio per il coordinamento degli affari umanitari Mark Lowcock lui è uno il top top ufficiale per le humanitarian assistance in tutto il mondo per i UN e ha dichiarato ufficialmente al Consiglio di Segretà delle Nazioni Unite che senza dubbio lo stupro viene utilizzato come arma di guerra come mezzo per umiliare terrorizzare e traumatizzare l'intera popolazione e le generazioni successive queste sono le parole che vengono dette nelle riunioni a porte chiuse del Consiglio di Segurazione delle Nazioni Unite questa è una orrenda campagna di stupri e di abusi nei confronti delle donne e bambine e questa campagna di stupri è parte integrante della strategia militare delle truppe etiopi e delle tre lo stupro come arma di guerra altre persone che sono mesi e mesi che la comunità internazionale per quanto in modo insufficiente sta cercando di dare voce o comunque portare alla luce quello che sta succedendo nel Tegrai un'altra è stata la rappresentante speciale delle Nazioni Unite sulle violenze sessuali nei conflitti nominata apposta Pramila Pattien che qualche giorno fa qualche settimana fa ha detto che nel Tegrai soprattutto nelle zone rurali e montuose del Tegrai che sono quelle completamente inaccessibili donne e ragazze continuano ad oggi in questo momento mentre parliamo noi continuano a subire violenze sessuali che vengono perpetuate con un livello di crudeltà che supera ogni comprensione umana queste sono le parole dei più alti funzionari delle Nazioni Unite gli operatori sanitari documentano quotidianamente casi che comunque continuano nonostante siano stati riportati pochissimi casi le Nazioni Unite hanno detto che ci vorranno mesi se non anni prima di arrivare a decifrare quella che è la scala magnitudo di questa campagna di stupri si parla di più di 50.000 non confermate ma sicuramente saranno anche molti di più è una cosa spaventosa e ci tengo è importante specificare di cosa si parla perché le testimonianze che sono uscite sulle principali testate giornalistiche di tutto il mondo a parte l'Italia tutto il mondo si parla di donne vittime di stupri di gruppo a cui hanno inserito chiodi pazzoletti sporchi oggetti affidati nelle parti intime nonne di 80 anni stuprate barbaricamente insieme alle loro nipoti donne torturate drogate seviziate a fianco ai propri figli per settimane da più di 30 soldati con una violenza tale da queste donne sono rimaste paralizzate o incapaci di camminare tutte molte altre che potrei potrei menzionare sono donne rapite legate a delle rocce rapite insieme a loro figli legate a delle rocce tenute prigioniere per giorni senza cibo insieme ai loro figli e donne a cui sono stati ammazzati i loro figli mentre li violentavano davanti agli loro occhi sono donne che pregano che hanno pregato di essere uccise perché non volevano continuare a vivere dopo un trauma tale e invece no vengono lasciate sopravvivere donne a cui donne a cui sono entrate in casa hanno ucciso i figli e le hanno chiuse in casa per giorni insieme ai cadaveri dei loro figli si parla di guardate io io come chiunque lega o comunque prende visione di quello che sta succedendo sono del è spaventoso non chi gli operatori umanitari e anche diversi giornalisti che hanno documentato gli stupori in integrai che ripeto e ci tengo a sottolinearlo continuano tutt'oggi in questo momento non si sono fermati nonostante tutte le chiamate da parte della comunità internazionale le truppe eritree e le truppe etiopi continuano a stuprare donne e bambine senza nessun tipo di discriminazione chiunque l'importante è che siano tigrine e un'altra cosa spaventosa queste sono cose che non sono mai successe in questa vastità in nessun'altra parte del mondo io sfido chiunque a a trovarmi altri esempi in questi in posti comunque situazioni in cui siano accadute questo tipo di cose uomini obbligati ad avere rapporti sessuali con femmine del proprio nucleo familiare sotto minaccia di morte queste sono le dichiarazioni delle Nazioni Unite nonno ucciso a sangue freddo per aver rifiutato di avere rapporti sessuali con la propria nipote questa nipote poi è finita sulla jazira a parlare di quello che sta succedendo conosciuta come Mona Lisa a cui è sopravvissuta allo stupro perché ha cercato di ribellarsi il suo suo nonno è morto lei però le hanno sparato nelle gambe e nel braccio ha perso una gamba e una mano cioè qua si parla di vittime indifese abbandonate totalmente dal mondo ma allo stesso tempo super coraggiose donne che hanno avuto la forza comunque di raccontare al mondo le torture abobinevoli a cui sono state sottoposte perché queste donne e bambine dopo essere state stuprate per giorni da soldati che definire soldati o umani è davvero un complimento non si parla ne è peggio di bestie che sono hanno comunque minacciato le vittime molti soldati sono andati negli ospedali a controllare che queste vittime non fossero andate a denunciare c'è un centro di un centro l'unico l'unico centro che offre supporto alle vittime di stupro ce n'è solo uno in una regione di 6 milioni dove si contano decine di centinaia se non migliaia di stupri al giorno non siamo ancora riusciti a fermare tutto questo in Italia nessuno sta parlando di questa cosa è lo sforzo che stiamo cercando di fare per cercare di smuovere l'umanità delle persone l'interesse di un paese ma in generale della persona umana rispetto a questa disgrazia comunque queste testimonianze si possono trovare ovunque delle vittime di stupro perché sono dappertutto e un'ultima cosa a cui ci tengo anche a sottolineare sono la grave crisi cioè oltre ovviamente il danno enorme che si sta creando alle donne ma anche ai bambini qua si parla di bambini che hanno assistito vengono obbligati ad assistere allo stupro delle proprie madri bambini uccisi a sangue freddo davanti ai loro genitori chirichetti giustiziati anche loro fuori in una chiesa bambini chirichetti questo è stato riportato dalla CNN senza neanche essere sul posto perché ormai le prove sono così evidenti e sono così alla luce del giorno e all'aria aperta che i video di massacri di stupri e di sopravvissuti sono dappertutto dappertutto e scusatemi se mi sono dilungata comunque volevo un'altra cosa che è già stata menzionata anche da un'altra persona e quello secondo me è uno dei risvolti anche più struggenti oltre alla fame sistematica è indotta perché la fame è indotta il Tigray in questo momento sta avvenendo un altro enorme crimine di guerra oltre allo stupro come arma di guerra la fame come arma di guerra i massacri qua si parla anche della sistematica distruzione di tutte le strutture sanitarie tutte le strutture sanitarie il Tigray godè prima che il conflitto iniziassi e questo lo dice anche i medici senza frontiere il Tigray aveva uno dei migliori sistemi sanitari di tutto il paese di tutta l'Etiopia ad oggi ad oggi e questo anche già da qualche mese questo sistema è totalmente il sistema sanitario è totalmente collassato e le conseguenze sono devastanti come è stato menzionato prima per i vaccini per i bambini per le donne vittime di stupro che non hanno nessun posto dove andare a cercare aiuto e per tutte le persone comunque ferite ammazzate o che scusate ferite o che comunque con malattie pregresse o chi normalmente veniva curato in ospedale come diritto comunque perché ormai non esiste neanche più quello e anche il fatto che non fanno seppellire i morti le truppe di tre soprattutto nei loro decine dozzine centinaia di massacri che continuano tutt'oggi il tratto comune il comune denominatore di tutti questi massacri di tutte queste testimonianze è stato proprio il fatto che i corpi vengono lasciati per strada e i familiari non hanno il diritto di toccare i corpi o provare a seppellirli altrimenti rischiano la morte ci sono persone in Axon che sono morte perché hanno tentato di seppellire il cadavere dei propri familiari grazie scusatemi scusate volevo aggiungere anche un'altra cosa appunto sempre riguardo gli stupri anche di mettere su degli eserciti con persone HIV positive proprio per far sì che il virus venga trasmesso poi alle proprie vittime quindi c'è anche questa sistematica insomma sì lo stupro è sistematico per poter eliminare la persona le donne e così far modo sì che le vittime non possono avere figli in un secondo momento ma al di là anche degli stupri volevo anche menzionare la sorte pure degli eritrei perché il tegraio ospitava un cospicuo numero di rifugiati eritrei che erano appunto scappati negli anni soprattutto dopo l'apertura seppur breve dei confini dopo la pace questa fantomatica questa fantomatica pace con l'eritrea c'erano circa centomila eritrei rifugiati molti sono stati rimpatriati forzatamente tanti altri sono stati uccisi torturati tra cui anche volontari aiutanti umanitari di cui ricordo bene erano quattro aiutanti umanitari uccisi danesi appartenenti ad una ONG danese infatti i primi mesi insomma quando si cercò di far di lasciare l'accesso seppur minimo a qualche agenzia internazionale come le Nazioni Unite i federali i truppi federali spararono anche ai volontari aiutanti delle Nazioni Unite stesse fatto affatto gravissimo quindi niente questo devo aggiungere insomma io direi proprio so che ci siamo dilungati molto ma giusto per per aggiungere una cosa proprio per sottolineare la nostra anche posizione immaginatevi voi dopo aver sentito appunto tutte queste atrocità che sono stanno accadendo sulla pelle della nostra famiglia vedere visite politiche dei nostri politici andare in determinate zone oppure anche ad esempio la stessa il vice ministro del ministero degli affari esteri Sereni dire dopo cinque mesi di genocidio che sostanzialmente Abiy voleva soltanto portare la democrazia in Etiopia è un qualcosa di scioccante la nostra famiglia sta morendo c'è bisogno che sia diciamo noi cittadini in generale italiani ci adoperiamo appunto nel cercare di far vedere il più possibile cosa sta succedendo in Etiopia ma c'è anche bisogno di una forte presa di posizione da parte dei nostri politici che noi votiamo quindi c'è bisogno di fare di più questo di sicuro è da parte di tutti grazie grazie per averci dato la possibilità di parlare grazie grazie a voi potrei aggiungere l'ultima cosa riguardo a quello che ho detto adesso è passato oggi siamo il 10 maggio il 30 marzo c'è stata la dichiarazione da parte del del ministero degli esteri che ha detto che aveva detto che stavano lavorando all'ipotesi di una visita in Etiopia da parte del nostro ministro degli esteri di Maio è passato ormai più di un mese e sulla falsariga di quello che è stato detto finora sulla posizione dell'Italia dei politici italiani del governo italiano nei confronti di quello che sta accadendo in Tigrai questa è l'ennesima conferma che stiamo ancora attendendo la presa di posizione forte da parte del nostro governo italiano che dice e osanna il bel rapporto che lega l'Italia all'Etiopia per vari interessi ecco quindi mi premeva sottolineare l'ennesima riprova che le dichiarazioni e i proclami lasciano il tempo che trovano servono azioni pratiche e azioni immediate per non passare troppo tempo perché appunto come si diceva anche prima l'ipotesi di carestia non è dietro l'angolo e non è purtroppo nemmeno più un'ipotesi si sta concretizzando di giorno in giorno per il periodo delle piogge che sta avanzando a inizio giugno piuttosto che per altri fattori quindi ripeto ci sono tante evidenze che non possono lasciare scappare l'occasione di come quello italiano di prendere di dover prendere una posizione forte nei confronti di questa guerra questo e quanto benissimo e infatti ci chiedevano appunto credo che dipenda appunto fondamentalmente anche come dicevate un po' tutti prima dalla scarsità di notizie o anche dalla confusione che viene generata non era stata stipulata una pace con l'Eritrea non so se vuoi rispondere tu Davide diciamo che riguardo alla pace intendevi pace tra Etiopia e Eritrea sì Federica ok esatto che un fattore di quell'accordo di pace tra Etiopia ed Eritrea è stato anche secondo me questa è una mia ipotesi anche il fatto che è decaduto l'embargo sulle armi dell'Eritrea questo ha comportato anche secondo me un un aggravante per la situazione attuale nel senso che è una variabile che ha secondo me potuto dar accesso a un rapportamento militare che ad oggi l'Eritrea diciamo usa per per occupare il Tigrai e creare violenza in Tigrai sulla gente sul popolo del Tigrai questo questo sì è un qualcosa che tra le tante notizie che non vengono diffuse passa ancora più in secondo piano quindi sì mi premeva dire questo lascio la parola magari all'altro se anche gli altri vogliono diciamo aggiungere qualcosa la risposta di Davide volentieri grazie per l'opportunità giusto per rispondere velocemente alla domanda di chi ha partecipato la pace tra Etiopia ed Eritrea di fatto non ha portato assolutamente a niente se non il genocidio in sé è una pace che è stata stipulata in Arabia Saudita tra il primo ministro etiope e il presidente dittatore direi io Eritreo Isabel Saforchi non c'è nessun tipo di documento che comprova questa pace per quanto riguarda invece i fatti diciamo che i confini sono rimasti aperti per pochissime settimane al che dato che appunto tantissime persone in Eritrea scappavano in Etiopia approfittandosene appunto del fatto che i confini erano aperti gli stessi due presidenti hanno comunque richiuso i confini quindi non ha portato assolutamente nulla se non al premio Nobel per Abiy e appunto come detto prima al genocidio che sta accadendo adesso quindi più che una pace era un accordo militare è un accordo appunto che pianificava anche il genocidio in Tigray anche perché subito dopo sono avvenute come ho detto prima molteplici visite nelle basi militari sia Eritrea che Etiopia perfetto perfetto io non vedo altre domande ma la diretta è sempre è sempre aperta la potete anche rivedere quindi potete anche scrivere successivamente per approfondimenti chiarimenti però evidentemente questo è il segno che insomma siete stati tutti molto chiari e scusate posso solo aggiungere un'ultima cosa e poi per chiudere questo sia in modo tale da ripetere quello che è quella che diciamo la richiesta di tutti i tigrini dell'intera comunità internazionale delle agenzie umanitarie di chiunque altro con la cosa più importante per risolvere comunque questa situazione almeno arginare il disastro che poi arriverà perché adesso questo è solo l'inizio perché come è già stato ripetuto da altri il fatto che non si potrà seminare in tempo quest'anno una popolazione dove milioni sopravvivono con agricoltura comunque di sussistenza la situazione peggiore arriverà ancora tra poco perché oltre ai massacri gli stupri e alla gente che viene ammazzata e sta morendo di fame milioni moreranno di fame l'unica soluzione ed è importante ricordarlo è il ritiro delle truppe eritree e questo è quello che sta chiedendo l'Unione Europea il segretario di Stato americano il nuovo inviato speciale per il corno d'Africa nominato dal presidente Biden chiunque tutti i ministri degli esteri di tutta Europa e anche di Canada Giappone tutti questi paesi ci ritengo a sottolineare l'Italia è l'unica che non si sta esponendo tra l'altro anche di tutti i paesi dei G7 che c'è stato il meeting settimana scorsa l'Italia non ha preferito parola rispetto a quello che sta succedendo nel Tigraico c'è un silenzio assordante imbarazzante e vergognoso se l'Eritrea si ritira dal Tigrai sarà possibile distribuire aiuti umanitari perché gli aiuti umanitari vengono saccheggiati distrutti dalle truppe E3 e viene bloccata la circolazione degli stessi operatori umanitari che vengono fermati ai checkpoint dalle truppe E3 minacciati di morte quindi le truppe E3 devono uscire per fare in modo che venga distribuito da mangiare e smettano di saccheggiare le provviste e di distruggere i campi in modo tale che le persone del Tigrai siano in grado di seminare e di provare comunque un minimo a riprendersi e non cadere in un baratro per cui ci vorranno anni per riprendersi perché molti forse alcuni di noi sono giovani ma sono tante persone che spero stiano seguendo questa diretta sanno cosa è successo nell'83 non nell'85 nel Tigrai dove sono morte più di un milione di persone per la stessa identica situazione di quello che sta succedendo adesso solamente che ora è ancora più amplificato perché sempre tra l'83 e l'85 il vecchio regime di Mangustu ha bloccato e fatto morire di fame un'intera regione creando più di un milione di morti solamente di fame quindi questo le truppe di tre devono uscire uscire dal Tigrai in modo tale che non vengano più ammazzate trucidate bambini donne anziani disabili preti preti è uscito pochi minuti fa un articolo del The Guardian che parla di un massacro di preti e un altro motivo per cui le truppe di tre devono uscire è perché principalmente ovviamente insieme alle truppe amara milizia amara e anche soldati tiopi ma principalmente la crudeltà e la brutalità delle truppe di tre sta creando dei danni che si parla di ci sono esperti analisti che l'hanno definita torture eh equivalenti se non peggiori a quelli dell'Isis e di tanti altri Boko Haram eccetera cioè si parla proprio di delle sevizie e dei crimini e dell'atrocità che vanno contro vanno oltre ogni immaginazione e non hanno precedenti grazie ci tenevo a dire questo perché comunque uno pensa come si potrà risolvere questa situazione il primo passo di poi di un cammino molto lungo è il immediato il ritiro delle truppe di tre grazie eh ancora una volta grazie a tutti voi e questo questo evento questo spazio è stato uno dei modi eh per cui Amnes si lavora per sensibilizzare fondamentalmente i diritti umani e quindi prima di chiudere davvero ci tengo a specificare ancora una volta che Amnesty studia le relazioni dei diritti umani quindi pubblica annualmente il rapporto su tutti i paesi del mondo e segnala tutte le relazioni dei diritti umani fa pressione sui governi perché appunto queste non accadono più fa anche educazione nelle scuole e quindi questi sono tutte le maniere che Amnesty ha in suo possesso per sensibilizzare sui diritti umani e diffondere la cultura dei diritti umani e quindi noi saremo sempre dalla dalla vostra parte e soprattutto dopo aver ascoltato le vostre testimonianze ancora di più e per qualsiasi altra informazione potete commentare qua sotto e noi vi risponderemo anche successivamente continuate a seguire la pagina e filmate anche le le petizioni perché quello è anche un modo che tutti noi singoli cittadini abbiamo per iniziare diciamo così come si può dire a fare qualcosa e invito anche a seguire focus on Africa quindi invito a seguire focus on Africa per stappenne di più visto che come abbiamo detto prima purtroppo non c'è molta altra possibilità vi invito anche ad attivarvi se lo volete con i vostri iniziali a voi vicini vi saluto e vi ringrazio al nome del coordinamento alla prossima grazie 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 grazie